Una nuova area per eseguire in modalità drive-thru, cioè in auto, i tamponi per la diagnosi di Covid-19 su una superficie di 5.000 metri quadrati a Sesto Fiorentino. È stata inaugurata alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni e dell'Assessore al Diritto alla Salute Simone Bezzini, nello spazio messo a disposizione per volontà degli imprenditori Emiliano e Daniele Caselli dall'azienda ZooWorking. Lo screening in questo momento si pone attraverso l'impresa dei fratelli Caselli che hanno messo a disposizione questo bellissimo spazio attraverso la Croce Rossa come condizione per una politica giusta di prevenzione. Nella nuova area per il drive-thru sono stati allestiti due gazebo per consentire l'esecuzione dei tamponi molecolari e rapidi sia privatamente sia tramite la prenotazione con il servizio pubblico della ASL, un connubio tra pubblico e privato che, ha detto l'Assessore al Diritto alla Salute Simone Bezzini, ha permesso nella fase più acuta dell'emergenza di arrivare anche a 25.000 tamponi giornalieri in Toscana. Noi stiamo ragionando e questa iniziativa, di cui ringrazio, diciamo, ZooWorking, la Croce Rossa, il comune di Sesto, Sillab, insomma, tutti gli attori di questo progetto va in questa direzione, cioè noi dobbiamo provare a giocare anche un po' di anticipo, non solo aspettare che il contagio in qualche modo riproduca una richiesta di tamponi, ma anche cercare di attivare iniziative di testing. L'area per i tamponi inaugurata Sesto, al cui interno è presente il personale della Croce Rossa, è una delle più grandi d'Europa per estensione, l'accesso al drive-thru è da Via Petrosa a Sesto Fiorentino.